eccoci di nuovo siamo pronti per preparare i nostri pacchenton e melanzane l'acqua bolle le nostre padelle sono qui pronte eccoci qua cominciamo con il mettere in cottura le nostre melanzane prendiamo l'aglio abbiamo messo già dell'olio della nostra padella ci mettiamo dell'aglio le nostre melanzane le abbiamo già tagliate a cubettini sono pronte qui abbiamo il nostro tonno è pronto i pomodorini di tutti i tipi l'olivetti i capperi l'origano e le nostre erbette aromatiche e soprattutto il tonno bene quindi facciamo sottigione l'aglio intanto possiamo mettere in cottura ciao laiza i nostri paccheri perché hanno una cottura molto lunga eccole qua questi sono artigialati trafidati a bruglio questo è un sughetto che si fa molto velocemente quindi una volta che abbiamo messo le melanzane a cuocere le melanzane che hanno la cottura più lunga possiamo scendere tranquillamente in cottura anche i nostri paccheri così velocizzeremo il tutto ok? bene il nostro aglio è quasi pronto ecco qua le melanzane e le mettiamo in cottura e queste vanno bene mettiamo un pochino di sale e mandiamo in cottura ecco qua e queste vanno così mettiamo mettiamo a fare i nostri pomodorini mettiamo nell'olio dell'aglio la base abbiamo imparato è sempre quella olio, aglio, peperoncino l'acciughina e andiamo ok mettiamo l'olio mettiamo anche i nostri paccheri stanno iniziando mettiamo subito in cottura mettiamo in cottura anche i paccheretti eccoli qua i paccheri iniziamo in cottura in cottura iniziamo le nostre allevane in cottura mettiamo in cottura mettiamo un pochino di peperoncino ok un pochino di cipolla metto in cottura in cottura con spazio esiguo però per farvi vedere mi devo arrangiare un pochino possiamo preparare i nostri pomodori ci rimettiamo un po tutti ciao angelo ciao rosanna grazie ok eccoci di nuovo scusate solo un attimo quindi prepariamo i nostri pomodorini velocemente tanto non è nulla di particolare tagliamo a pezzettini mettiamo anche la nostra acciudina che non manca mai eccola qua ok perfetto poi metteremo anche due capperetti che ci stanno proprio bene i nostri melanzane continuano ad andare ecco qua ho scattato il pomodorino giallo ecco fatto siamo pronti ecco qui i nostri pomodorini mettiamo cottura e qui ci vanno per soli le nostre melanzane anche sono quasi pronte ecco qua belle dorate i pazzi li stanno dando ci mettiamo un pochino di origano un po' di basilico e lo mandiamo poi altra padella l'altra storia di farberta ma tutte ste padelle perché se mettiamo tutto insieme non è la stessa cosa non viene buono allo stesso modo quindi prendiamo il fuoco sotto la trapatellina un pochino di olio un pochino di aglio questo è il suo frutto e questo è uno solito soffitto ecco qua mettiamo un pochino di cipolla facciamo torteggere i nostri pappi li stiamo andando e la moglie ancora hanno bisogno di una bella cottura ecco qua la nostra melanzana è quasi pronta facciamo torteggere anche qua perché il tonno deve cuocere piano piano poco poco non deve avere una lunga cottura ho anche il pomodorino la cottura più lunga ce l'ha giusto le nostre melanzane il pomodorino deve rimanere quel bel gusto fresco ok ci siamo ragazzi ecco qua il nostro tollo qui è bello costretto cosa faremo? metteremo il tollo quando avremo già mantecato la pasta all'ultimo proprio perché la pasta la manteneremo bene dentro il pomodoro dentro il nostro fighetto in modo che prenderà un buon sapore ok è il tonno normale bello bello sostanzioso mettiamo il tollo eccolo qua perfetto aggiungiamo anche i nostri capperi al nostro pomodorino ecco di qui diamo i quanti capperi e lo semente facciamo cuocere il nostro pomodorino mettiamo un pochettino di sale e ci uniamo con un pochettino di vino bianco ecco qua lo sfoglio di orellina di sale ecco lì bene anche le nostre melanzane sono pronte possiamo spegnere le melanzane ok e le mettiamo insieme al nostro pomodoro sono pronte, sono pronte ecco qua le abbiamo messe ecco il pomodoro e intorno aggiungeremo adesso una spruzzatina di vino appena 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 sfumiamo e lasciamo stare eccolo qua già cotto lasciamo sfumare un po' mettiamo un pochino di pezzemolo adesso faccio anche qui un pochino di pezzemolo via anche un pochino di pezzemolo a posto stiamo pronti dobbiamo solo aspettare che termino la cottura i nostri passeri poi rimantichiamo e prepariamo il nostro piatto va bene mettiamo anche quattro di etta le nostre limine giacce è un sugo bello ricco veramente bello ricco ecco qua a tutti i troppini della nostra terra ci siamo ragazzi ci siamo proprio bene ci vediamo tra un pochino quando è ora di mantecare la pasta ok a tra poco buonissimo ci siamo è il momento possiamo mantecare la nostra pasta quindi la scogliamo con il nostro solito attrezzino la mettiamo nella madella e manteniamo l'acqua per la manteca dura ecco qua i nostri bei paccheroni belli 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 grandi facciamo andare con un pochino di acqua facciamo terminare la cottura in cadella mi raccomando quando sarà quasi terminata la mantecatura aggiungeremo il tonno vedete il spettacolo bene fiamma viva un po' viva un pochino di acqua e li saltiamo ok ecco qua in questo modo assaborò tutto il sapore del vostro filetto che sarà meraviglioso e sarà meraviglioso perché avete messo tutti i pomodorini belli colorati freschi il profumo dei capperi delle olive dell'origano del basilico è un tribuglio proprio esalteranno in corso i sapori senza mai esagerare però mi raccomando vanno messi ma ad esaltare i sapori e non a coprirli ok ecco vedete come è cremoso guardate un po' guardate un po' che è cremosita adesso è meglio vedete eccoli qua belli grigliosi saltando adesso siamo pronti per mettere il tonno il nostro bel tonno ecco qua a questo momento terminiamo la nostra macegatura eccoci è un bel piatto eh bello ricco ciao Tomas eh sì penso di sì ecco qua ci siamo eh sono belli e pronti poi dopo facciamo una tagliata di tonno che si non manca la pasta come me perché io stasera non mangerò i saccheri ma mangerò la tagliata ecco qua ci siamo bene i nostri paccheri sono pronti li possiamo impiattare abbiamo il nostro bel piatto ecco il nostro piatto disporremo il nostro piatto delicatamente eccoli qua i nostri bei paccheri guardate un po' che spettacolo della natura c'è il mondo tonno fresco tonno fresco melanzane che sono di stagione che sono buonissime e si prestano a tante tante ricette le nostre belle cari melanzane io le adoro ecco qua bene ultimo pacchero mettiamo il nostro bel condimento ricco bene termineremo con qualche erbetta aromatica qui ci mangiano al minimo minimo due persone e i paccheri gli se li mangia? e beh qualcuno c'è che se li mangia allora mettiamo un pochino di erbetta aromatica la guarnizione del nostro piattino un po' di prezzemolo che sul pesce non manca mai io so prezzemolina quindi il prezzemolo va ecco qua un po' di prezzemolina bene un po' di fresco con la nostra menta beh che dire ecco li qua i nostri paccheri sono pronti eh? te ne dite belli vero? ok bene per questa ricetta abbiamo terminato ci vediamo tra un pochino per un'altra bella ricetta questa sera proprio ho voluto fare tre diverse ricette con il tonno fresco va bene? l'ho presa in pescheria dalla mia amica D'Aprilia un bel tonno intero e mi sono sfiziata un pochettino vi ringrazio e buon appetito buona serata a tutti ci vediamo dopo ciao ciao